Enzo Ferrari nasce a Modena il 18 febbraio 1898 nell'appartamento costruito sopra l'officina meccanica del padre. Con lui, a dieci anni, assiste alle prime gare di velocità lungo la via Emilia. Nel 1919 si trasferisce a Milano per lavorare in una fabbrica di autocarri che lo ha assunto come collaudatore. Il suo sogno nel cassetto rimane però quello di diventare pilota d'auto da corsa. Eccolo, in una foto, impegnato in una gara in salita, la Parma Poggio di Berceto. Passato nel 1920 all'Alfa, si piazza in una ventina di corse. Da ricordare il secondo posto assoluto in una targa Florio e nella prestigiosa Coppa Acerbo del 1924. Si ritirerà nel 1931 pochi mesi prima di diventare padre.